Ciao, come l'altro? Benvenuto, ciao. Benvenuto. Noi siamo gli Eugenio Medigioia e questo, come ben sai, è il casting per... Il nuovo bassista. Il nuovo bassista. Noi stiamo cercando un nuovo bassista e potresti essere tu. Buongiorno, sono Matteo. Ciao. Ciao, come l'altro? Benvenuto, ciao. Benvenuto. Oh, finalmente una ragazza. Eh sì, dai, non sembra più. Ok, va bene. Propongo un pezzo di mia creazione. Le farfalle fanno male. Ah, è interessante. Grazie. È originale. Cioè, comunque il finale... Un altro modo di suonare il basso. Abbiamo notato che ha uno stile un po' classicheggiante, diciamo. Hai una tua passione questo genere oppure riesci ad adattarti anche a cose, diciamo, un po' più moderne? Pensavo di proporvi una sonata in lo maggiore di Gustav Mahler, per contrabbasso solo. Eh, però. Va bene, le faremo sapere. Le faremo. Grazie mille. Grazie. È forse un po' scorrelato. No. Che era? Mi serve una sedia? No, non mi serve. Scusate, non sono abituato a farle io, queste cose. Ok. Sì. Pronto? Il prossimo! Eh, proprio con questo pezzo che... Eh, fa più o meno così. Noi veramente cercavamo la voce. No, non ce l'ho fatta. Sono qui per, umilmente, sostituire Lorenzo Federici, perché sappiamo tutti che ha segnato un'era. C'è l'era pre-LF, post-LF. Sì, perché devi smontare il palco e fare super rollo. È vero. Interessanti. Bravi, bravi. Scusa, mi cerco l'uomo bassista. Sì, gli effetti... Bassista. No, ragazzi. E qui il casting per il bassista? Sì, 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 è per gli ungegni e vi di gioia. Che cazzata! Scusate, ciao. Il basso serve a darvi, come dire, una risoluzione freudiana, mista a quella junghiana, ed è fondamentalmente il bassista, l'elemento principale della dissonanza cognitiva. Ma questo a poco interessa perché io sono qua per dare prova che Freud è stato il primo bassista della storia. più basso, più alto, secondo voi che... Su... Non ca... Secondo me è il 115, la vedo bene. Ah, il 115? Ah, un voto alto, generale, è 16. Aspetta, aspetta, aspetta! Senti un attimo. Senti un attimo...